Operazione disposta dalla DDA di Catanzaro con l'arresto di 5 persone ritenute responsabili del duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci e del contestuale ferimento di Mario Trinni avvenuto a Cosenza il 9 novembre del 2000. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalle GP distrettuali di Catanzaro al termine delle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e del PM della DDA Camillo Falvo nei confronti di soggetti di spicco della criminalità organizzata cosentina di etnia nomade. Chiodo, Tucci e Trinni stavano chiacchierando in una piazzetta nei pressi del carcere di Via Popilia quando da un'auto scesero due sicari incappucciati che iniziarono a sparare all'impazzata. Trinni riuscì a fuggire mentre Chiodo e Tucci furono colpiti. I sicari poi spararono alla testa delle due vittime il colpo di grazia con una pistola calibro 9. Gli arrestati sono Antonio Abruzzese di 48 anni, Luigi Berlingeri 48, Saverio Madio 56, Celestino Bevilacqua 57 e Fiore Abruzzese 52, tutti ritenuti stabilmente inseriti nella criminalità mafiosa cosentina di etnia nomade. Sul piano storico siamo andati a vedere quali erano ad esempio gli omicidi risolti tutti questi anni, quali i fatti più eclatanti che non avevano avuto risposta e quindi ci siamo messi a studiare, a cercare il filo d'Arianna su questi omicidi. Ad esempio il duplice omicidio di oggi, il tentato omicidio è un fatto gravissimo perché è venuto in primo centro, è venuto con armi da guerra, quindi non sono posti nessun problema, nessuno scrupolo a poter uccidere anche passanti. E quindi questo ci sembrava un duplice omicidio sul quale andare a scavare. Mi è valsa la pena, siamo stati fortunati o pignoli e grazie al lavoro certosino che ha fatto la DIA di Catanzaro è stato possibile andare a inserire, a trovare, a innestare gli anelli mancanti. Concentrarci.